Uff, cosa non si fa per essere invitati ad un evento Xbox Live? Buonasera a tutti, siamo qui allo spazio Bioma Milano, con noi un ospite eccezionale. Continuate a seguirci e ne scoprirete di più. Ciao! Ciao, sono Andrea Ove, campione del salto in gioco. E' stato un anno quello che si è appena concluso con la stagione natalizia, un anno che definiamo dei record con Kinect che ha superato i 10 milioni di unità. E' stato un Grazie a tutti Beh direi che per oggi è tutto L'appuntamento al prossimo evento Arrivederci